Emily, Lisa, venite qua, facciamo il nostro picnic qui Grazie No, non ho fame, prima facciamo un giretto Emily, aspettami Ah, no, no, non mi prenderai mai Emily, aspettami Ragazzi, state attenti Ah, voglio scivolare Ah, voglio scivolare Ah, voglio scivolare Oh, Emily Che gesto Mi fanno male le mani Maria, guarda Che succede? Mi fanno male le mani Andiamo dalla dottoressa Lui, aspetta qui Buongiorno dottoressa, Emily è caduta Buongiorno Adesso andiamo Grazie Non avere paura Emily, bisogna disinfettare Sì Aia, 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 aia Scheggia di legno Quanto è grossa Oh, tutto a posto E noi possiamo andare a fare il picnic Sì Grazie dottoressa A rivederci Emily Ciao Lisa, tutto a posto Guarda che bel cerottino che ho Sì, Emily aveva una grossa scheggia di legno qui nella mano Ma adesso finalmente facciamo il nostro picnic Oh, siete Sì, Emily Grazie Lisa Che bel tempo Anche tu non dimenticare di fare il picnic E con voi ragazzi Ci vediamo molto presto Ciao, ciao